benvenuti questo nuovo video andiamo a sentire un audio di grazia cerca il babbo papà in questa sessione sentiremo o meglio non sentiremo bene le interazioni perché l'audio è troppo veloce avevo detto di cercare di tenere un tono non lento ma se uno ha una parlantina veloce risulta poi difficile per loro modificare i fonimi quindi non sarà chiarissima questa metafonia e andrò diciamo a tentativi nel senso di capire che cosa sto dicendo perché il fonema non è stato modificato al meglio quindi andiamo a sentire l'audio poi vedremo se ci saranno riscontri o meno ma in questo audio è stato il più difficoltoso è il quinto erano dovevano essere sei ma la sesta persona non è pervenuta è stato taggata nel gruppo ma ci si dà la possibilità ma poi non viene non viene presa in considerazione chissà boh chissà perché va bene andiamo a schermo intero devo vedere l'audio allora partiamo subito qui qui dice si sente ei ma nel senso e alla mamma di grazia grazie che è circondata da persone che sono assurde non so che cosa voglio dire in questo caso magari sono finte sono false non si comportano bene nei suoi confronti quindi il pensiero suo è rivolto alla moglie in questo caso alla mamma di grazia insomma andiamo a sentire quest'altro pezzo allora sentiamo ancora varie volte dai allora poi dice oro vuol dire che sta bene nel senso ti porta loro nel senso ti porta sentimenti positivi poi c'è la seconda parola la neve novità nel senso non so ci sono novità nella tua vita perché mi pare di aver capito questo che ci saranno delle novità o ci sono delle novità insomma c'è il discorso di che molti dicono che non possono prevedere il futuro non è vero è una mega cavolata lo spazio temporale diverso dal nostro loro vedono il nostro futuro perché è in qualche maniera è stato già compiuto che già stato fatto insomma è difficile parlare e spiegare determinate cose quando qualcuno dice che non possono rivelare il futuro è una grande cavolata insomma per non dire ho dovuto e poi dice qua dice una cosa particolare coltelli amore hanno lassù non so che cosa sta significare quindi vedi tu grazie a che cosa sta significare perché è strano che mi dice queste cose nel senso beh comunque non è molto strano perché dirà comunque vivono una vita molto particolare molto simile alla nostra e quindi non so se vuole specificare che ci sono i coltelli perché dice coltelli amore lassù e c'è bisogna prendere in considerazione questa cosa ti dice amore nel senso che comunque ti vuole un gran bene ecco cioè non sottovalutiamo alcune parole alcuni fonemiche vengono modificati in parole semplici perché una parola detta da loro ha un suo peso specifico che è diverso dal nostro noi diciamo la parola ti amo a chiunque amo a chiunque no non è così che deve andare non è così che deve essere nel senso quando quando tu dici ti amo amore a una persona deve essere veramente quello deve provare un sentimento veramente forte grande non è uno sconosciuto diciamo ti amo cioè assolutamente no come esempio la nuova generazione che dicono bro ha uno sconosciuto che bro sarebbe fratello ma alla fine non è il tuo fratello nel senso spero di essermi fatto capire a spiegare nel senso vabbè dai non andiamo troppo oltre perché comunque il video diventa lungo qua parla di anduia e di agnelli però non riesco a capire bene che cosa vuole dire perché è molto complicata questa traccia allora poi dice qua dice qua non riesco a capirlo bene cosa dice qua ti vesti per una determinata occasione o ti sei vestito per una determinata occasione qua mi dice e poi dice una cosa molto particolare permesso si sente molto chiaro permesso 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 per venire giù nel senso che comunque il tuo papà sta bene lui ha il permesso per scendere venirvi a trovare te e tua mamma insomma e questo qua è sempre sempre lo stesso però ti dice agnelli non riesco a capirlo bene no è qua scusa 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 ah ok qua parla di agnelli persone che sono finte agnelli nel senso che non portano bene a te o alla tua mamma o parenti che eh sì sono agnelli ma non non sono in realtà agnelli cioè un'indicazione del tuo papà di dire o stai attenta ad alcune determinate persone poi vedi tu che cosa sta dicendo il tuo papà o almeno sto cercando di capire bene che cosa sta dicendo il tuo papà ma in questo video questo audio è particolarmente difficile e poi dice parla di oro non so parla magari di braccialetti qualcosa di oro dice quello sì cioè questi parenti non ho capito bene il flusso del suo pensiero nel senso perché parla di agnelli parla di oro non so se qualcuno vuole qualcosa dalla tua famiglia nel senso ma io penso a eredità poi vedi tu che cosa sta dicendo nel senso si parla di qualcosa di oro nel senso di eredità qualcosa di questo genere a mamma dice a mamma 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 e poi dice a mamma vogliono portare via qualcosa vedi tu che cosa stai dicendo non so che condizioni di salute ha la tua mamma ma qualcuno forse sta aspettando che passa oltre poi vedi tu come sono le condizioni familiari i tuoi e dice conviveva viveva insomma queste persone qui da quanto mi dice da quanto capisco non sono stenchivisanto nel senso perché comunque conviveva viveva con persone false da quanto mi sto capendo e qua dice si sente alla fine non dire nel senso che ascoltiamo un attimo il primo pezzo e noi stiamo diciamo a vedere che cosa sta succedendo nel senso ma non dice non dire non può dire tutto quello che vorrebbe dire nel senso perché comunque come già detto in passato c'è un filtraggio di determinate cose che possono dire che cosa non dire perché i vostri cani non vengono mai da soli vengono sempre accompagnati con qualcuno o il suo angelo custode e poi ci sono le mie guide e i miei ministri e quindi non possono dire determinate cose perché potrebbero influire il nostro percorso terreno eccetera eccetera comunque da quanto sto capendo ci sono persone intorno a te che non sono agnelli ecco alla fine cioè andiamo avanti poi sentiamo ad Anna un regalo ad Anna vorrebbe un regalo qua dice non so chi è Anna però sembra che vorrebbe un regalo cioè nel senso poi vedi tu si sente bene Anna e regalo inizio e fine perché molto chiaro non si fida delle carezze ecco così che non si fida delle carezze non so se inerente a questa Anna o a te nel senso sta parlando di te che magari o tua mamma che qualcuno insomma non si fida delle carezze dice ok dai andiamo sul mio faccione sul mio brutto faccione allora insomma questa metafonia audio è stato molto particolare da sentire da capire perché comunque ci sono parti che sono chiare parti che non sono chiare purtroppo poi vedi tu che cosa viene fuori da quello che ho cercato di capire insomma perché il parlato è molto veloce insomma e niente questa era l'ultima l'ultimo audio di sperimentazione del gruppo sabato prossimo farà un post nel gruppo che riguarda nel gruppo e domenica uscirà un video delle richieste di metafonia che saranno sei che poi verranno messe nelle ruote scelte ma quella metafonia la farò io poi spiegherò in quel video lì che quelle sei richieste di metafonia devono arrivare da youtube e dalla pagina e no dal gruppo con il gruppo andiamo avanti a fare queste sperimentazioni e quindi siamo a posto e dall'altra parte farò le sessioni e niente anche questa volta è tutto ultimamente sono abbastanza incasinato e mattino presto mi sveglio sempre presto per registrare o sentire fare e disfare perché poi la giornata insomma è impegnativa tra comunioni crisi robe inviti compleanni sabato la domenica sta diventando esagerato vabbè comunque alla prossima volta ciao